Buongiorno Luna, oggi, 19 ottobre 2056, per chi si è appena sintonizzato è Corrado che vi parla, felice ogni giorno di darvi notizie dal vostro amatissimo pianeta, donne, il vento a 103 km di orari, ottimo per gire in barca, voli col deltaplano, guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza di te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre da lassù la luna mi sta a guardare, non vi preoccupate per i vostri uomini, ma ve l'avevo detto che da qualche giorno, grazie a questo incredibile surriscaldamento globale, i panni si asciugano in un balino, e ora una canzone per voi da ascoltare. Dove sarà quello sguardo per vivere così sulla luna di passaggio? se tu vorrai un miraggio per sognare un po' di più, senza passù il tuo annunaggio, a presto, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. E voi, bimbi, bambini? come va lassù? State andando a scuola? Dovete studiare? Al tempo libero dovete pensare al vostro pianeta, dovete ricreare il vostro pianeta lassù. e se vi rimproverano, se vi dicono qualcosa, gli rispondete, è solo un ozio creativo. Sì, è solamente un bellissimo ozio creativo. e se me lo permettete oggi vorrei fare un augurio particolare a mio figlio, da mandare lassù, nello spazio. Buon compleanno. Mi manchi. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.